De Ferragnes 2, la serie TV che vede protagonisti Chiara Ferragni e Fedez, tornerà in TV il 18 maggio su Amazon Prime Video, seguita da uno speciale sul Festival di Sanremo 2023 dopo l'estate. La coppia sembra entusiasta del sequel, con l'influencer che ha commentato sulla sua pagina Instagram, è il momento che aspettavamo da tanto, sarà un'avventura emozionante. Non è chiaro se il programma affronterà la lite tra Chiara Ferragni e Fedez sul palco di Sanremo, il presunto tradimento con Rosa Chemical, o i problemi di salute del rapper che lo hanno portato a prendere psicofarmaci. Recentemente, la coppia si è concessa una breve vacanza a Dubai, suscitando non poche polemiche tra i fan del rapper, che in passato aveva criticato la città.